Sono Laura Quintavalle, personal chef di Cook. Oggi faremo assieme uno stuzzichino vegetariano, una crema di carote allo zenzero presentata dentro nei cipollotti sbollentati. Se cercate una ricetta per un aperitivo di qualità e raffinatezza, questa lezione di cucina fa per voi. Ecco gli ingredienti. Facciamo lessare le carote tagliate a tocchetti in acqua salata. Scolliamo le carote con una schiumarola e teniamo l'acqua per sbollentare i cipollotti. Aggiungiamo mezzo bicchiere di vino rosso e immergiamo 4 cipollotti sfogliati e i loro gambi nell'acqua bollente per un paio di minuti. Scolliamo anche questi e facciamo raffreddare in acqua fredda. Scaldiamo dell'olio in una padella. Aggiungiamo le carote lessate e lo zenzero fresco pelato e tagliato a tocchetti. Uniamo un cucchiaino di cumino, mescoliamo e facciamo cuocere per circa 10 minuti. Frulliamo le carote con 120 g di ricotta vaccina. Mettiamo mezzo cucchiaino di sale e frulliamo ancora brevemente. Trasferiamo la crema di carote in una bacinella e aggiungiamo una manciata di prezzemolo. Asciughiamo i cipollotti su della carta e riempiamoli con la crema. Vi vediamo meglio questo passaggio. Disponiamo i cipollotti sul piatto come se fossero dei fiori e serviamoli con fettine di pane. Vi è piaciuta questa ricetta? Allora iscrivetevi al mio canale. Arrivederci alla prossima lezione di cucina.